Cari amici di calciomercato.com, ho letto tante critiche a Pioli, io non mi permetto di fare il professore, il maestrino, tantomeno con i colleghi e tutte le critiche, però mi sembra che siano tutte in superficie, perché Pioli merita il processo, il processo perché ha perso 5 derby su 5 nel 2023, sì, ma quella è una statistica che sanno anche i bambini, il processo perché la squadra si è consegnata all'Inter, sì, va bene, processo perché non ha segnato neanche un gol, solo un gol ieri, ok, anche quello lo sanno i bambini, processo perché ha detto che non si scusa con i tifosi, non c'entra niente, quello non c'entra niente, processo perché ha detto che prima del gol iniziale dell'Inter il Milan ha tenuto palla per 4 minuti, sì, ha sbagliato a dirlo, ma è la verità, comunque, quindi che processi su una cosa che è effettivamente successa, ecco, quello che mi sembra è che tutti siano un po' imbambolati dal fatto che Pioli comunque è stato accompagnato da un sacco di complimenti, il gioco europeo, questo Calabria regista salutato come invenzione epocale e nessuno abbia detto a Pioli, scusa, mister, prova a giocare come l'Inter, cioè l'Inter la mette in difficoltà se giochi come l'Inter, perfino il Manchester City nella finale di Champions League non ha giocato all'arrembaggio o da Manchester City secondo la narrazione di Guardiola, no, ha giocato per far giocare anche l'Inter. Se l'Inter invece la vai proprio ad attaccare, vai proprio a tenere tu il possesso palla, vai a fare tu... L'Inter si esalta difesa e contropiede, ma da Conte a Inzaghi non è cambiato assolutamente niente. L'Inter non va in difficoltà quando si difende, ordinata, 11 dietro la palla e poi riparte in contropiede e riparte in contropiede e fa male. Fa male quando aveva Lukaku, quando aveva Dzeko e qui devo fare grande ammissione colpa anche con Thuram. Io Thuram ero di quelli che diceva questo non è buono. Secondo me lo diceva anche l'Inter, sotto sotto, perché comunque il risponso dell'amichevoli a Stiv era stato abbastanza deludente, quindi l'Inter si è affrettato a tentare Beto, Zapata, Scamacca, Balogun, fino ad arrivare addirittura Arnautovic e perfino Sanchez, Alexi Sanchez per essere più certa. Però invece Thuram è un grande giocatore, ma è ovvio che è un grande giocatore, anche perché Ciao e Kier erano sempre due contro due con Thuram e Lautaro. È ovvio che è un grande giocatore perché Inzaghi che cosa faceva quando c'era Calabria a fare il regista? Li marcava e raddoppiava tutti. L'Inter raddoppiava tutti e lasciava libero solo Calabria. Calabria faceva un po' quello che voleva, però a un certo punto, prima del gol del Milan, ho chiesto una statistica. Io non seguo tanto le statistiche perché secondo me possono, si possono anche, c'è modo in modo di leggere. Hanno detto ma quanti palloni ha toccato Leao? E mi hanno dato il numero. Quanti palloni ha toccato Calabria? Era più del doppio. E Calabria era il giocatore del Milan che aveva toccato più palloni di tutta la squadra. Ragazzi, così no. Perché Pioli è stato applaudito, questo sì da dire. Pioli, la vera critica è il motivo per cui Pioli è stato applaudito fino ad ora. Calabria regista. È una mossa che Calabria non è Cancelo. Se la fai con Cancelo ha un senso. Se la fai con Walker o Ake che si alternano ha un senso. Ma se le fai, dipende dalle caratteristiche dei giocatori, le innovazioni tattiche. Il gioco deve corrispondere alle caratteristiche dei giocatori e non ci bisogna, l'allenatore non si deve vergognare di essere uno difese e contropiede. Perché c'è modo in modo per fare difese e contropiede. Si può essere perfino più raffinati a fare difese e contropiede. E in ogni caso, in ogni caso, io le critiche a Pioli non le trovo giuste, secondo me, non perché non sia giusto proteggere e sessarlo, ma perché sono tutte sfocate e nessuno che c'entra il punto. Cioè quello del gioco che deve corrispondere alle caratteristiche dei giocatori. Hai leao? Devi cercarlo il contropiede anziché scappare dal contropiede. Capito?